Novembre, Alfa 1, Siena Siena, ci sono... vai! È forte e chiaro, anche se in effetti devo tenere il bottone pigiato dello squatch, altrimenti non sentivo niente, quindi c'è qualcosa che non va, con prima la cambiamo con la radio con meglio è. No, non lo so, bisogna fare un po' di decoding e capire, io non riesco a capire se è solo un problema di cuffia, di microfono, di qualcosa, bisognerebbe capire di più e fare un po' di test, over. Va bene, Francesco, metti giù una procedura veloce su cosa si può fare di test e ci organizziamo, la facciamo. Grazie Francesco, ci sentiamo, Novembre, Alfa 1, Siena Siena, over and out.